su Rai 3 alle 21 e 20 parte un nuovo programma raccontare comincia tu ma è anche un grande ritorno in tv e anche qui in studio bentornata è un grande piacere Raffaella Carrà. Buonasera. Buonasera Alberto grazie infinite anzi grazie al TG1 per ricevermi visto che debutto su Rai 3 eh il direttore Stefano Coletta mi ha eh convinto a fare questo programma che è un po' un rischio per me eh sono sei incontri con un ospite solo per un'ora e mezza ma sono tutti ospiti molto illustri. Chi sono questi ospiti? La divina Sofia Loren, la numero uno della televisione Maria De Filippi eh il maestro Muti che è un orgoglio il direttore d'orchestra più importante italiano eh poi abbiamo a premio ha avuto l'Oscar Paolo Sorrentino un regista veramente geniale e anche un difensore della nazionale ehm e anche della Juventus è Leonardo Bonucci ma stasera si comincia alla grande con Fiorello ho studiato ecco bravo dieci più dieci più che cosa ci può anticipare di questa ora è più con Fiorello dunque ehm allora si chiama raccontare comincia tu quindi nella prima parte io gli lascio spazio per raccontare alcune cose che di Fiorello non sapevo io e forse non sa nemmeno il pubblico nella seconda parte però ci scateniamo. Il grande show. Sì. No. No. È una cosa intima piccolina. Sono un show tra voi due. Ecco. Non vedo l'ora di vederlo. Davvero? Allora tra poco con Raffaella Cara su Lei 3 grazie di essere tornata qui al TG1 e bocca al lupo. Grazie a voi è stato veramente un piacere stare qui al TG1 al TG1. Grazie. Allora tra poco con su Lei 3 grazie.